Let's go bitches e benvenuti a questo vlog in cui voglio chiarificare alcune cose su Black Ops 3 Come sapete ieri ho scritto che ci sarà il 99% acciaio ma questa cosa che ci sarà toughness come viene chiamato in inglese O comunque resistenza in questo caso non ci sarà su Black Ops 3 mi sono sbagliato io stesso mi sono fidato di molti rumor Perché come ho visto su Twitter David Bonderar l'ha spiegato più e più volte non ci sarà nessun perk acciaio o qualcosa di simile Ma invece penseranno a un modo di ridurre il flinch cioè quando voi state mirando e sparate per prima e vi sparano addosso l'arma vi si alza Allo stesso modo se sparate per secondi l'arma vi si alza e non riuscite a mirare magari Quindi cercheranno di correggere questa cosa del flinch e di diminuirlo comunque perché al momento pare esagerato e veramente fastidioso Pure perché non si vede dove si spara tra l'altro Quindi non vi preoccupate mi sono sbagliato su quella cosa come molte altre persone Ho letto il tweet di Bonderar avete visto anche voi l'immagine qui sotto Quindi io vi saluto bitches spero di aver chiarito tutto Let's go bitches